In casa Melicucco con Mercuri, buonasera, ben trovato direttore Buonasera, buonasera a voi Grazie per essere con noi Allora direttore, arriva una vittoria di misura contro la Propellaro che è anche il modo migliore per cancellare la prima giornata Sì, sicuramente, ma non è la prima giornata, ho sentito tante parole Abbiamo preso un palo, abbiamo fatto un gol che l'abbiamo pareggiata e poi non è che abbiamo giocato male la prima giornata Oggi è il risultato di una zero e buciardo, ma va bene così Vabbè, l'importante sono immagini di tre punti Sì, 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 quello è che conta, i tre punti Anche perché li prendete contro un avversario per nulla facile? No, per niente facile, ma noi, non lo so se siete informati Non lo so com'è finito uno a zero perché abbiamo avuto l'esazione da gol limpide Prossimo avversario, il Melito Melito sabato Esatto, che tipo di partita si aspetta? Saranno una partita tosta, saranno tutte toste le partite Però noi ce la giochiamo con tutti perché abbiamo fatto una squadra per lottare con tutti Oggi sono rientrate quelle che erano fuori, 5 titolari, 6 e poi abbiamo una panchina lunga Ce la giochiamo con tutti sicuramente Bene, direttore grazie per essere stato con noi Buona serata Ringraziamo anche il direttore Mercuri E...